Secondo le statistiche di YouTube, solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora, grazie! Ho capito, ma questo qua venga! Quell'altro dove cazzo è? Sta facendo il pranzo di Natale! Per lei ha ragione però Chi sei? Goku non lo sai, però il culo lo prenderai Ah no, quella era tua madre Con la faccia di merdar dar 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 scaverai nel tuo ano E guardando più in là io sai ti dirò Vaffanculo Dragon Ball Succhia le palle sai Dragon Ball E con tua madre dai Dragon Ball Perché sai c'è la mamma che del Manu fa per tre Esistono anche per esempio i gruppi che entrano nella live e si mettono tutti a segnalare Oh dai vi prego Ragazzi vi voglio darvi un consiglio amici di TikTok La figa La figa giuro vi farà eccitare molto di più che fare queste fortunate A me sta baccando un botto La figa Non sto scherzando Non sto scherzando È molto più eccitante che fareste cagate Sì, 19 Rata togge king a lui 100% 1001 1002 TAI Ciao Kung Fu grazie dei sei Ciao Domi grazie delle rose su TikTok Grazie anche a Ricksen Sei mesi Niente non... stiamo quitando? Io ho quitato Sì ho quinto Certo Certo Ciao Alessio Non stai bene? Il tweet di Fortnite status Abbiamo dei problemi con la lead game Esatto Salve Cetaz Grazie delle 100 Dai che forse dobbiamo prendere i punti Sì Ora di no Aspetti So 3t e metina Potremmo farcela Potremmo farcela Sì sì dai 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 Eh non pusciano niente Eh stanno fermi in Iger Ho comunque scritto la segnalazione di TikTok Ho mandato anche una fotografia di quello che vedo Il problema è che le parolacce sono Eh cazzo non lo puoi prendere cazzo Tu madre su che cazzo Va bene non ho fatto la calciata Da italiani Ah vabbè Ha ballato pure Ha ballato pure Di ballarmi su sta cazzo di grande cappella Come la sua puttana di madre ha fatto ieri sera Coglione di merda Che dio caro forse lo sai ma tuo padre è un cornuto Che lo chiamano alci al bar porco di cazzo Sta di cazzo Grazie mille pippone I rivals di forte sono i 15 settori Mette i muri Eh vabbè Ci fa le risate Nettuno raga Mi capito Prego Grazie Alessandro per le rose Grazie Lorenz Grazie Michi Grazie ragazzi su TikTok per le rose Com'è? Ok No perchè l'ho trovato io No perchè ha sbagliato lei Ah ho capito Attenti 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 No no troppo troppo abilizzati quelli sopra Oh Coglione rispondi al telefono Oooo Oooo Money 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 Yooo Gialla gialla Cin Cin Blin blin Sè che gialla Cin Cin Blin blin Che sta pese Dio di quel dio se sto lavorando Nel accetto ma scusate devo trovare un tasto comodo per le raccolte perché secondo me molto più comodo la e per raccogliere q e tab per le mosse speciali a ok io però prendo la e per raccogliere ragazzo molto più comodo allora impostazioni tastiera se mia moglie non è come la fami non la sposo va bene ciao mazzi grazie dei 29 come no vorrei avere adesso delle informazioni sulla patatina mi scusi sicuro sono curioso di sapere cose trascurare nessun dettaglio vorrei sempre esatto anche il post patatina grazie ai ragazzi del 100 grazie diciamo che la vita non era non era far la sfida reale della patatina in sé che io ho fatto la barra dico faccio sfido quanto era la barra per la patatina 25.000 abit e l'ha fatta in ragazzi non mi fai evitare ok ciao alba grazie dei 13 ciao bello grazie per le rose che è stato bocciato il suo amico lo che è stato bocciato è un cula allora siamo non così panice di plis sì 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 ma il fatto è che stavo prendendo il wall e porco dio spari ma voglio a fare il culo è uguale ma anche prima prima di sbagliato perché mi devo far coinvolgere in queste cose ciao art x benvenuto col prime speriamo sì meglio 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 ma questo l'ho spregato che ha tirato un colpo sono morto no io non ce la faccio ero tutto rilassato questa mattina nell'extra cil nelle no build è venuto col prime cr7 l'ha ammazzato poi poi ricchi cr7 che stai tirando il cazzetto ricky perché mi è chillato e si è eccitato bambino in un po anch'io ho ballato ieri sera su quella di tua madre infiato il cazzo talmente tanto dentro nella figa che l'ho spondata merda eppure la troia ballava ricky vai 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 cr7 non si permetta me ne frega un cazzo laura vada ballava pure lì devi ballare su sto cazzo a sto coglione è morto idiota fallito del cazzo scarso no lascio solo aperto la finestrella ha sempre da questo che niente niente c'è spagna 30 30 allora si capra si capra si capra a marzo del 23 sono sei anni mannaggia mannaggia andiamo 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 io sono fantastico sono inguardabile e necessito dell'acqua devo parlare con la moglie devo chiedere dell'acqua